Gara tra Real Napoli e Deportivo La Miranda! Non ci crediamo quasi, entrati in diretta c'è il clamoroso liscio del portiere, passano in vantaggio i ragazzi del Deportivo La Miranda, ma dobbiamo dirlo, ha giocato solo e soltanto il Real Napoli nella ripresa, Calafiore ha fatto all'incirca 36 interventi decisivi, attenzione però adesso subito a Real Napoli, vanno in avanti, la palla termina in calcio d'angolo, incredibile per il Real Napoli questo gol, anche l'occasione del pari, attenzione ancora! Calafiore, vola! Stavamo dicendo che proprio anche in occasione del pari il portiere del Real Napoli non era stato impeccabile, infatti il tiro era partito da centrocampo, il pari di saldo è inquadrato, dalla battuta ha trovato il gol del pareggio, Olacco, dalla laterale cerca un passaggio davvero difficile per il compagno Sofia, il pallone che termina fuori, davvero surreale con il commento tecnico affidato a Fulvio Sorgente, davvero surreale questa situazione, per il Napoli ha davvero giocato da solo? Questa situazione è una partita veramente a senso unico, però il portiere ha fatto un paio di errori determinanti, attenzione potrebbe fare un altro, no? E ovviamente la partita è decisiva di episodi e questi episodi sono stati contro il Real Napoli. Adesso la rimessa dal fondo, batterà proprio Angelillo, certo non fortunato anche, il pallone che è schizzato due volte prima che impattasse sui guantoni. Terreno agliacciato, attenzione personale, adesso sulla cozzia di Finifla, splendido tutto tranne la conclusione, è a porta, va però in rete Spezella, questa volta Calafiore era andato ad intercettare il tiro di Enrico che però era stato rimpallato dagli avvertari, Spezella l'ha messa dentro, ristabilita la situazione di parità, è giusto così, due a due, attenzione però al tiro, c'è stato proprio così il gol di Calvi, bello il numero adesso, palla al piede, splendida di scena, attenzione Enrico, parte il tiro, ancora, ancora uno strepitoso, davvero non ci sono più parole per Calafiore, davvero straordinario, dopo una splendida azione personale di Astarita, ancora Enrico, il numero non riesce suolacco, il pallone termina fuori, interrompiamo qui il nostro collegamento, ricordiamo il parziale, due a due, tra Real Napoli e Deportivo, la Miranda, vediamo per poco, il gol del vantaggio del Real Napoli, interrompiamo qui il nostro collegamento.